Ciao a tutti, ben trovati in questo nuovo vlog, è un vlog di aggiornamento nel quale vi devo dare una comunicazione molto importante perché io non sarò a Roma dal 26 marzo al 30 marzo, cioè tornerò al 30 quindi diciamo fino al 31 e diciamo anche dal 25 a questo punto perché? Perché chiaramente come sapete, come molti dove sanno, almeno chi va a scuola, ogni anno c'è il fatidico campo a scuola lo scorso anno andammo incredibilmente a Subiaco e quest'anno invece la meta è un po' più interessante nel senso che andremo in Grecia però comunque ci sarà da divertirsi, quindi volevo dirvi due cose, la prima che tra l'altro se siete in Grecia in quei giorni non mi dispiace se mi fate un saluto per carità la seconda appunto che partivo e che quindi in quel periodo ovviamente non potrò essere attivo sul canale essendo all'estero non so neanche se riuscirò a essere molto presente sui vari social o rispondere a commenti e cose varie però chiaramente se potrò lo farò senza problemi come al solito e prima di partire però volevo portarvi qualcos'altro sul canale perché è chiaro che parto giovedì prossimo perché il 26 è giovedì tra l'altro non so quando andrà up questo vlog però spero presto nel senso che così non parlo a Vambera o comunque non ve lo carico il giorno prima di partire diciamo che nel momento in cui sto parlando che video vorrei caricare prima di espatriare? allora vorrei caricarvi come ho appena detto un nuovo episodio di carriera che dovrebbe essere il numero 23 si se non sbaglio si si e poi un nuovo episodio del Fede contro Claudio che abbiamo registrato sempre nel momento in cui sto registrando questo video ieri sera ed è venuto molto divertente quindi spero di editarlo bene e di caricarlo prima di partire l'ultimo video che vorrei caricare prima di partire è forse quello a cui tengo un po' di più forse proprio perché non è un video su FIFA e diciamo che FIFA sul mio canale ce n'è abbastanza e è appunto GTA si dovevano già capito ovvero le rapine online le nuove rapine online ho fatto un vlog ieri ho messo tutti i vlog ho fatto un video rapidissimo ieri mattina sulla mia pagina facebook quindi immagino che avete già capito quando sto registrando questo video ovvero di giovedì dicendovi che avrei registrato con Mauri online il video quindi chiaramente appena possibile ve lo caricherò spero anche questo di caricarvelo prima di partire per la Grecia quindi questi sono i miei obiettivi dal punto di vista videoludico prima di andare in Grecia in modo che comunque state a posto per un bel po' di giorni nel senso non penso che vedete in un giorno ben tre video quindi direi che per una settimana ve li gestite eccetera allora quindi ragazzi vi volevo dire principalmente questo in questo video che giunge al termine quindi chiaramente se vi è piaciuto lasciate un bel like e soprattutto se vi è stato utile per capire cosa... no eh vabbè lasciate un like così per scrupolo intanto fa bene lasciare un like ogni tanto lasciatemi un commento qui sotto iscrivetevi al canale se non lo siete già e condividete il video no perché dovreste condividere il video vabbè regà perché non so come includere il video quindi niente passate da tutti i link che trovate qui sotto in descrizione comunque alla prossima ciao 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 ciao